Buongiorno, questo spazio si chiama Mirabilia, è una libreria-galleria, abbiamo aperto da circa due settimane. L'idea parte dalla casa editrice Logos Edizioni, che è di Modena, e dalla figlia del titolare fondatore di Logos Edizioni, Chiarina Vergara. I libri, Logos, Tascia, in quanto distributori italiani e di qualche altro piccolo editore, sono soprattutto libri di illustrazione, fotografia, pittura, però con una buona sezione dedicata a tutto quello che è la Mirabilia, proprio dal nome della libreria, quindi tutto ciò che provoca stupore, curiosità, quindi libri che riguardano la simbologia, l'anatomia, la botanica, le wunderkammer, che sono uno degli argomenti principali affrontati da noi. E poi c'è tutta una parte di oggettistica che va dal gioiello ai coralli fino addirittura a pezzi di immobilia, che ci sono stati procurati da artigiani o collezionisti più o meno locali, che quindi sono in vendita e girano a seconda dei periodi. Abbiamo inaugurato sabato la prima mostra, che si intitola Cosimo, e sono tutti i dipinti originali del libro Cosimo di Roger Olmos, che è un autore catalano che ha già collaborato diverse volte con varie pubblicazioni con Logos, e ha praticamente illustrato il barone rampante per immagini. Abbiamo avuto qui l'ospite questo scorso fine settimana per fare la firma copia dei libri, e adesso la galleria, appunto al piano di sopra, nel ballatoio, è aperta fino al 31 gennaio, quindi le opere sono visibili, si può venire anche solamente a visitare lo spazio, e sono anche acquistabili fino alla fine di gennaio. Successivamente a questa esposizione cambieremo e avremo continuamente mostre o comunque esibizioni, vernissage che si alterneranno nel corso del tempo. Noi siamo aperti tutti i giorni, dalle 10 alle 19.30, perciò venite a vedere la mostra finché è aperta, e se volete vedere anche il resto dello spazio, insomma, vi aspettiamo. Buona giornata!